Pensioni. In arrivo i pagamenti di aprile. Con un leggero ritardo. L'accredito dell'assegno, infatti, avverrà con il primo giorno bancabile del mese, che cade martedì 2 aprile, visto che il primo aprile è un festivo, ossia Pasquetta. Il cedolino della pensione, comunque, è già accessibile tramite servizio online. Si tratta del documento che consente ai pensionati di verificare l'importo erogato ogni mese dall'INPS e di conoscere le ragioni per cui l'importo può variare. Nelle schede che seguono il calendario del pagamenti e il quadro delle trattenute fiscali relative al rateo di aprile. INPS sottolinea che a fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso dell'anno di imposta e IRPEF addizionali regionali e comunali a saldo, sulla base della montare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate. Se nel corso del 2023 sulla pensione sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l'INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell'importo del rateo pensionistico in pagamento. Qualora i rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale, di cui alla scheda precedente, l'INPS prosegue con le trattenute sui ratei mensili successivi fino ad estinzione del debito. Nel solo caso di pensionati con importo anno complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quale il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre. Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di aprile, oltre all'IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono. Le somme conguagliate verranno certificate nella certificazione unica 2024. Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni e detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo e non subiscono trattenute fiscali. Se l'accredito partirà il 2 aprile, chi ritira la pensione in contanti alla posta dovrà rispettare il calendario in ordine alfabetico. Poste Italiane ricorda anche che i titolari di carta postamat, carta libretto o di poste Pay Evolution potranno prelevare i contanti dagli 8000 ATM postamat in Italia, senza bisogno di recarsi allo sportello. Tutti i pensionati che intendono ritirare i contanti allo sportello potranno presentarsi in uno dei 12.800 uffici postali su tutto il territorio nazionale dal 2 al 5 aprile. Ecco il calendario. Dalla A alla C, 2 aprile. Dalla D alla K, 3 aprile. Dalla L alla P, 4 aprile. Dalla Q alla Z, 5 aprile.